Splendida giornata ostia, splendida giornata anche per il canale di pescatori che finalmente dopo tanto tempo rivede la luce. Guardate sulla foce del canale la ruspa che è in azione e libererà per il momento un piccolo canaletto all'interno del canale così da permettere a diportisti e pescatori di svolgere le loro attività. La prossima settimana invece è previsto l'inizio dell'appalto che si concretizza su tre anni e ha l'obiettivo di mantenere pulito il canale dalla sabbia certamente e in più di togliere tutta quella esistente quindi sarà un lavoro lungo perché oltre quella che vedete a dimora nel canale verrà tolta tutta quella che ormai giace da anni, decenni direi, sulla banchina di Ponente. Noi siamo sempre presenti, vi gireremo affinché questo piccolo problema, piccolo grande problema di ostia venga risolto. Speriamo bene!